dunque preside come avete accolto la notizia di questo ritorno a un esame di maturità classico quindi diciamo con due prove scritte un orale dunque intanto insomma con sorpresa lo abbiamo appreso soltanto dai dai giornali e della televisione insomma non c'è stato preannunciato era nell'aria però non non avevamo nulla di scritto né conferenze di servizio niente dal dal ministero quindi saperlo dai giornali così come i ragazzi ci ha un po spiazzato certamente insomma ci daremo da fare e avremo la possibilità di insomma organizzarci però riteniamo che questa cosa doveva essere messa sul tavolo fin dall'inizio dell'anno scolastico in modo tale da dare agli studenti la possibilità di prepararsi adeguatamente alle due prove scritte quindi sia quella di italiano che probabilmente sarà di carattere nazionale il primo approccio alla notizia è stato quello di sorpresa perché dopo diciamo le prime diciamo dichiarazioni del governo ufficiali sono state quelle che non ci sarebbero state prove che la modalità sarebbe stata analogo a quella degli scorsi anni dopodiché è trapelata la notizia dell'introduzione del tema di maturità e per quanto diciamo ci sia del dibattito anche relativamente alla prima prova io personalmente mi ritengo favorevole e contento dell'istituzione del tema perché è diciamo un baluardo della scuola pubblica italiana il fatto stesso che un sistema si prenda la responsabilità di valutare un pensiero soggettivo è molto importante e questo aiuta particolarmente alla formazione di individui che in questo momento è sempre più un problema dopodiché la seconda prova è tutto un altro discorso perché la seconda prova richiede una mole di lavoro dietro che non si limita a questi quattro mesi di potenziale recupero del programma passato tutta quest'ultima parte del quinto anno è un'integrazione degli strumenti che abbiamo conquistato nel nostro caso specifico di materie come la matematica e come la fisica che sono indubbiamente penalizzate nel momento in cui vengono fatti due anni in didattica a distanza quindi sulla seconda prova io credo che diciamo non sia possibile soprattutto nella modalità in cui è stata immaginata. Come avete accolto diciamo la notizia di questo ritorno all'esame classico di maturità? L'abbiamo accolto con un po' di sorpresa devo dire perché abbiamo avuto notizia appunto dai mass media, dai giornali e siamo ancora in attesa dell'ordinanza e questo ha creato delle reazioni soprattutto negli studenti anche parte del corpo docente perché dalle notizie che abbiamo avuto quindi dalla decisione di ripristinare una seconda prova scritta che comunque riporta l'esame a una normalità tanto auspicata da tutti noi ma non crea una sorta di disorientamento soprattutto da parte degli studenti perché avrebbero giustamente avuto diritto ad avere delle certezze fin dal mese di settembre. Trovo che in un periodo in cui tutti gli studenti hanno evidentemente delle lacune nelle materie di indirizzo come noi allo scientifico possiamo averle in matematica e fisica. Credo sia rischioso introdurre all'esame di stato la seconda prova. Tu ti senti pronto dopo due anni di pandemia di didattica a distanza ad affrontare una prova così complessa? Allora sicuramente non mi sento sicuro come mi sarei sentito se non ci fosse stata la pandemia e la didattica a distanza e tutto ciò che la pandemia ha comportato. Da un altro lato mi rendo conto che il fatto che la seconda prova sia prodotta da commissioni interne alle scuole sia da un certo punto di vista un vantaggio per gli studenti perché la prova può essere più semplice perché si tiene conto di quelle che sono state le mancanze della didattica non dei singoli studenti ma delle singole classi o almeno dei singoli istituti. Preside, come si sta organizzando il suo liceo nel momento in cui è venuta a conoscenza dell'introduzione della seconda prova? Diciamo che siamo ancora nel momento di assimilazione della notizia. Era abbastanza chiaro di ritrovare la prima prova scritta, quindi a me su questo ci si stava già preparando. Adesso la novità è stata quella della seconda con questa formulazione un po' particolare per cui va predisposta dalla scuola. Quindi adesso la riflessione che porteremo avanti da adesso in avanti sarà quella proprio di come formulare questa seconda prova. Restiamo prima in attesa della definizione di questa tipologia d'esame perché sappiamo ancora non essere ordinanza. Però il pensiero si sta un po' concentrando su questa seconda prova che non era attesa in qualche modo. L'altro aspetto rispetto agli studenti che mi sento di dire è che in ogni caso si terrà conto di questi anni di pandemia. Sappiamo bene che il triennio dei maturandi di quest'anno è stato un triennio compromesso da quello che abbiamo vissuto. Quindi tutte le commissioni, ma come è avvenuto già nei due anni scorsi, terranno in massima considerazione quanto vissuto dai ragazzi. Se il Ministro Bianchi ti stesse ascoltando, che cosa gli diresti? Beh, forse chiederei una valutazione un po' più attenta di quella che è la situazione scolastica. Comunque un ascolto maggiore degli studenti e non un'agevolazione perché sarebbe sbagliato che sia un'agevolazione che comunque è anche giusto che l'esame di maturità si faccia e che ci sia una prova che determini quello che è il percorso scolastico degli studenti. Però magari una maggiore attenzione a quello che è stato il percorso condizionato da tutta la situazione Covid e da tutte quante le varie garanzioni che sono state fatte. E comunque è evidente che le penalità i giovani della nostra età, della nostra internautità, le hanno pubbite dopo tutta la situazione Covid. Quindi valutare anche questo. Beh, che più che un'introduzione diciamo che è una reintroduzione e soprattutto che poteva essere gestito meglio quantomeno il modo di comunicazione. Infatti è stato comunicato al primo di febbraio, che non è ancora una cosa ufficiale, sono solo delle descrizioni di Repubblica, mentre è tutto quanto l'anno che il Ministro Bianchi gioca un po' a nascondino con gli studenti. Prima parlando di solo orali, poi parlando di forze, delle prove scritte e non lasciando mai trapelare qualcosa che per noi invece è fondamentale, anche dopo tre anni di data bisognerebbe, se non altro, iniziare a riabituarci a una scuola che un po' si è persa, che poi è il motivo per cui negli anni scorsi è stata introdotta solo la prova orale. Sarà in piazza a manifestare contro questo nuovo provvedimento? Sì. Perché? Perché appunto noi crediamo che questa cosa sia stata gestita male e soprattutto che non tenga conto della grande importanza di questo passaggio che è per tutti quanti, anche perché non comprendiamo bene le ragioni di questa reintroduzione che è quantomeno forzata. Presumiamo che sia semplicemente per dare l'immagine al mondo dell'Italia che il Ministero sta lavorando e che funziona tutto benissimo, ovviamente sulla nostra pelle, perché l'automobile è stata gestita a quarantene e rientri a scuola forzati e non. Grazie. Grazie.